Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il ballerino è stato ospite del noto studio televisivo di Verissimo, dove si è lasciato andare ascoltanti confessioni sulla sua bellissima storia d'amore con Giorgia. La coppia è felicemente fidanzata da oltre 20 anni e la loro fiamma sembra ancora ardere ancora oggi con la stessa intensità dei primi tempi. Nel corso dell'intervista il ballerino ha voluto replicare a una dichiarazione della sua compagna, che si sarebbe lamentata di come Emanuel non le avrebbe mai insegnato a fare il moomoling, cioè il celebre passo di danza di Michael Jackson. Dal canto suo il ballerino ha replicato che, allo stesso modo, lei non ha mai cantato in casa, insegnandogli a cantare. Tuttavia, è pur vero che non è mancata tra di loro la condivisione, però, in compenso abbiamo fatto tanti lavori insieme. La coppia ha realizzato insieme il videoclip del singolo Scelgo ancora te, un brano che tratta proprio della loro storia d'amore, tanto che nelle scene finali si vede il figlio Samuel. Nel videoclip, man mano che scorrono le immagini, si scopre che tratta della loro storia d'amore, da cui è nato il regalo più grande, il figlio Samuel, che si intravede nelle ultime scene del videoclip. Entrambi sono stati sempre piuttosto riservati in merito alla propria vita privata, ma non hanno mai fatto segreto di essere ancora oggi molto innamorati.